Sì, mi dica, prego prego si accomodi, si accomodi, la stavo aspettando, la stavo aspettando, si accomodi signora o signorina, signorina, come si chiama? Posso darti del tuo? Eleonora, ok, allora Eleonora, sediti, prego accomodati, sei qui da me per farti truccare, giusto? Perfetto, allora ti vedo truccata, ti vedo un secondo truccata agli occhi, un pochino e le guance, vedete col te il collo un po' truccato, hai messo un po' di fondotinta, un po' di blush stamattina per uscire, ti strucco un attimo, se guarda lascia perdere, questa non è la mia location diciamo per truccare le clienti, ma oggi siamo work in progress e quindi stiamo cambiando location in tutti i momenti, spero che ti piaccia, che ti trovi comunque rilassata e a tuo agio in questo luogo dove sei oggi, con me, ti strucco il viso, queste salviette, per ricordare l'estate anche se sta finendo, vedi che bella, le diamo via, si puoi anche comprarle certo, per la prossima estate, puoi comprarle direttamente la prossima estate, ok, adesso ormai siamo ad autunno, ti strucco un po' così, queste sentite sono fresche, le biette sono fantastiche, vedi, rilassati, anche se questa di solito non è la nostra location però, rilassati lo stesso, rilassati, ti faccio un po' di trattamenti, ti trucco, ma prima ti metterò la crema idratante, mi ricordavo che avevi preso un appuntamento da me, si, 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 va benissimo, ok, a posto, allora io, visto che sei nel mio salone, ti mostro la crema idratante che consiglio a tutti i miei clienti, e cioè questa qui della Balea, del negozio DM, è un negozio che trovi solo in Germania, o anche in qualche sporadico negozio, in Piemonte, qui, ma anche in Veneto dovrebbe esserci, tu sei piemontese, sei di qui, in questa zona qui, o sei da dove arrivi, a Milano, vabbè, a Milano può essere che il marchio DM esista, il negozio DM ci sia, questa è una crema ultra sensitive, sapevo che la tua pelle era delicata, sensibile, quindi assolutamente sì, sapevo che ti serviva una pelle, cioè una crema idratante, scusa la stanchezza si fa sentire, poi tutti questi cambiamenti di luogo, di posto per zuccare ai clienti, mi stanno sballottando come un po' copostale, è una cosa brutta, però vabbè, ci accontentiamo, questa è la crema della Balea, al 7% di Urea, Mad Ultra Sensitive, queste costano molto molto cari, perché sono al 100% Eco Bio, certificate Icea, mi sembra sì, Urea, vedi, c'è anche scritto qui, Balea, Mad, ed è nuova, nuova, ancora col packaging, ancora su a casa, ti leggo dietro in italiano cosa c'è scritto, Balea, Mad, 50 ml, DM, crema idratante intensiva, ultra sensitive, di alber pelle sensibile e soggetta ad allergie, la tua pelle, la tua pelle società ad allergie, applicare mattina e sera su viso, collo e dei coltè, detersi, noi ci siamo struccate e quindi hai la pelle pulita, il viso pulito, il collo pulito, ideale anche come base make up, quindi la mettiamo sia come crema per idratarti, idratare la tua pelle e anche come base make up, eccolo qui, è piccola come la mia mano, hai visto, Balea, Mad, Ultra Sensitive, fantastico, la apriamo, è nuova, nuova, la prima volta la provo su di te, poi mi farei sapere se ti piace, ecco, ok, ne mettiamo proprio una punta, la macchina punta, vedi, ok, ok, voilà, la rimediamo a posto, ne basta proprio poca, 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 per idratare benissimo tutta la pelle, ho visto un sacco di recensioni, guarda fidati di me, adesso la passo sulle mie mani e poi le mie mani le passerò sul tuo viso con questa crema, la profumazione non mi fa impazzire, senti un po', se ti piace, sul mento, sulle guance, sulla fronte, e poi passiamo al trucco, perché mi hai detto che sei qui apposta per essere truccata da me, sapevi da altre tue amiche che sono venute qui a farsi truccare, che io sono brava nel make up, e quindi va bene, sono contenta che ti piaccia come trucco io, ecco, nel senso, si, 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 va benissimo, va benissimo, ok, rilassati, 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 va tutto bene, ok, si assorbe in fretta, e si assolutamente si assorbe molto in fretta, però l'unica cosa è che questo profumo, questa crema all'urea, ha un profumo che non mi fa impazzire, non so se a te piace, però è comunque ultra sensitive, ricorda di questo marchio, se ti piace la crema la puoi ricomprare, 7% di urea, ok, voilà, lasciamo lì, 5 ml, si, vegan, vegan, assolutamente vegana, tu non so se sei vegana, sei celiaca, eccetera, però, è vegan, 100%, vegan, vediamo un po' se sei assorbita, sei perfetto direi, e ti sei anche rilassata, vedo che sei rilassata, sei pronta per farti truccare? guarda io, ho già preparato tutto, mi avevi detto che venivi e sei puntualissima, oltretutto sei puntualissima, ho preparato questa palette, in the nude, double seven, natural nude, eye color palette, con 12 ombretti, alla capella, rosa, bellissima, visto che, quella crema di prima, era sia una crema idratante, che una base viso, abbiamo già fatto la base, il fondotinta, no, non te lo metto, perché hai una pelle stupenda, e non voglio andare, a ritoccarla più di tanto, partiamo subito con gli ombretti, guarda che colori, questi qua sono più scuri, e gli altri sono tutti rosati, sono tutti chiari, questo quindi andrei a mettere oggi, ma prima mettiamo un ombretto chiaro, e poi mettiamo un ombretto dorato, sì, l'ho comprato anche per me, perché è bellissima questa palette, è assolutamente stupenda, questi sono tutti i colori, ok, sono tutti i colori, questi qua, li vedi? con tutti i nomi, Alice, Batman, coffee cup, 12 ombretti, io ho già anche pronto in tasca qua, il pennellino, guarda che bello, piccolo piccolo, ma bellissimo, e anche morbido, e vado subito a truccarti, partiamo con un ombretto chiaro, sono quasi tutti glitterati, questi ombretti, ok, a me piacciono un sacco i glitter, anche a te, sono proprio contenta, guarda, chiudo un po' l'occhio, grazie mille, mi hai detto che preferisci, non usare il mascara, perché sei allergica, e io purtroppo non ho ancora, mascara con, cioè, che non, diano allergie, o i mascara quelli da supermercato, da negozio, da salone, hai capito, no? ti metto subito l'ombretto dorato, e poi faccio l'altro strato, sull'altro occhio, facciamo così, puliamo, sì, non ti preoccupare, qui piove, quindi anche per quello, devo mettermi in una location, abbastanza luminosa, ok, qui, è così, ombretto chiaro, e poi, l'ombretto dorato, vedi, ombretto dorato, ho usato prima questo qui, che è un rosa glitterato, e poi l'ombretto dorato, questo qui, bellissimo, l'ho comprato anche per me, e devo dire, che l'ombretto dorato, va, caprosa, come si dice, va che brucia, lo uso sempre, praticamente, sono piemontese, quindi, ogni tanto, mi escono delle frasi piemontese, va che brucia, va che brucia, si dice, ok, voilà, sei già, stupenda di tuo, guarda, appena mi arrivano i mascara, quelli, ecopio, da quelli come te, che hanno allergie, appunto, ai mascara, normali, puoi ritornare, e ti trucco, con il mascara, oggi, facciamo un trucco, leggerissimo, giusto, così, da tutti i giorni, ok, me l'avevi detto, sì, che volevi un trucco, semplice, ma anche senza mascara, va bene, lo stesso, ok, adesso io ti metterei però un rossetto, lo vuoi, vero, il blush, no, perché abbiamo già messo quella crema, come base, però, visto che hai la pelle già, abbastanza bronzata, abbastanza scura, ti vedo, usaranno queste luci, io ti metterei un rossetto, fucsia, per ricordare la fine dell'estate, per ricordare l'estate, che sta finendo, fortunatamente, questo è della Essence, ed è un'edizione limitata di Natale, 03, Red Rocks, fucsia, bellissimo, l'ho comprato anch'io, guarda che meraviglia, anche questo è quasi finito, perché è un tester, quindi lo posso usare anche su di te, è bellissimo, è un fucsia meraviglioso, ti faccio uno swatch, certo che sì, guarda che meraviglia, guarda che colore, c'è un tesoro, sì il mio stomaco, ho fame, guarda che colore, meraviglioso, te lo metto proprio così, chiudi le labbra, bravissima, perfetto, te lo metto anche a me, sì perché stamattina, guarda nella fretta, non mi sono neanche truccata, sembro un mostro, hai presente il mostro di Loch Ness, uguale, te lo metto a chi? è cremosissimo, anche un leggermente profumato, è bellissimo questo rossetto, sì, si può mettere anche con il pennellino, guarda, si può mettere anche con il pennellino, è stupendo questo rossetto, sì, è veramente stupendo, ok, tesoro sei una bambolina, è già stupenda struccata, ma truccata sei ancora meglio, fidati, vedi che bello, voilà, lo metto lì, e siamo a posto, ti faccio rivedere, che bello questo rossetto, fucsia stupendo, guarda io d'estate uso un sacco di rosa, un sacco di fucsia come questo, adesso l'estate è finita, ma c'è chi non si arrende, e chi vuole ancora l'estate, e quindi come te, ti ho truccato in base ai tuoi gusti, alle tue preferenze, ovviamente i clienti hanno sempre la donna, torna pure quando vuoi, tesoro, a presto, grazie di essere venuta proprio da me, grazie, happy Eleonora, grazie per la richiesta, spero ti piaccia il video, a presto, buon relax,